Ti faccio cadere sott'acqua Bruto dottore inutile che non sia altro Ciao Aspetta Io non dovevo cadere in acqua ok E che sono troppo grosso e non riesco a passare Dove sei? Che adesso ci passi anche tu che mi hai portato da sto dottore inutile Porca miseria è fortissima E ragazzi come va? Io sono Fieri Niki E sono Stef e che stai giocando a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft E tornano i detective Stef e Fere che questa volta sono intrappolati in un'isola Dentro una villa gigante Credo che in questo momento i consolini hanno un punto interrogativo Gigante che dicono ma Ma cosa sta succedendo? Che sta succedendo Stef? Fere tu lo sai benissimo In ogni caso spieghiamo i consolini Allora praticamente siamo stati chiamati Da un tizio particolarmente ricco nel mondo di Minecraft Che ci ha chiesto Vieni nella mia isola privata ad investigare Perché c'è chiaramente qualcosa che non va Perché a quanto pare sono stati rapiti alcuni dei suoi camerieri E se sono come questi a me secondo me Mi sembra plausibile Mi sembra molto plausibile Perché non sembrano delle condicime E quindi noi siamo venuti in questo posto E abbiamo detto ok veniamo Vediamo un pochettino Siamo bravi a investigare Poi ci pagava bene Quindi abbiamo fatto ok Assolutamente sì Nella sua isola Siamo arrivati E ci siamo trovati in un posto strano Lui non c'era prima di tutto Quindi non capiamo neanche Non capisco perché ci ha fatto venire qua Un po' fregato Esatto E seconda cosa ci sono zombie ovunque Per di più zombie strani Non sono i zombie classici di Minecraft Ci sono zombie di tutti i tipi ovunque Nella villa Nel giardino Nel campo da tennis In qualunque posto noi andavamo C'erano sempre zombie che ci attaccavano Quindi investigare con tutti questi zombie addosso Non è stato semplice È stato abbastanza difficile Però siamo riusciti lo stesso a trovare il colpevole E abbiamo capito che esce soltanto la notte Quindi stiamo aspettando semplicemente Che passi la giornata Andiamo lì Lo catturiamo Esatto E scappiamo via velocissimi Perché sto posto E non ci torniamo mai più Steph La prossima volta lì gestisco i lavori Che dobbiamo accettare Oh mamma mia Ma ti rendi conto? Era sotto terra Sbucano da ogni dove Odio quest'isola Odio quest'isola Ce l'abbiamo fatta Fere l'abbiamo catturato Però hai notato che la situazione con la notte è peggiorata molto Sì tantissimo Steph Siamo circondati Guarda Ci arrivano costantemente addosso Oh mamma mia La persona che dovevamo catturare Dov'è Steph? Fere l'ho dovuto stendere Ah l'hai steso Per quello non lo piene che vi No si non si fanno prigionieri in guerra Ah beh gli zombie non li puoi tenere prigionieri Aia Steph mi stanno facendo malissimo Lo so Aiuto Aiuto Ma sono troppi Fere Andiamo via No no tu corri Tu corri ti difendo Corri 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 Oh mamma mia Non è possibile Non è possibile La notte è qui il delirio Steph Sono troppi Ok siamo tornati nella villa Meno male Però Fere Non c'è più nessuno? Eh Allora io innanzitutto ho girato un pochettino Perché ti ho detto mi stavano assalendo E hanno continuato a seguirmi dentro la villa Penso che li abbiano trasformati tutti Steph Non lo so Fere Eh che c'è? Le tue gambe Te l'ho detto li hanno trasformati tutti Steph Fere Le tue gambe Cos'hanno le mie gambe di strano? Io me le vedo normali Sono nere Fere Ma le vedi solo tu dai Sei tu che non riesci a vedere bene Io mi vedo normale Dai alla luce Sono nere Fere Mi sa che ti stai trasformando Secondo me le allucinazioni Steph Ok che mi hanno ferito Ma dai trasformarmi no Ti hanno ferito? E beh sì E poi dove è la tua armatura? Si è rotta Perché mi hanno attaccato Secondo te come facciamo a non farci mordere dagli zombie Per non trasformarci? Ma dai che sei tragico Non è vero che mi hanno morso Steph Non è vero dai Cerchiamo un rifugio Aspettiamo domani per scappare Allora dimmi che ti senti bene Ti senti bene? Sì benissimo Steph Sicura? Sì Ok Allora andiamo Ci rifugiamo da qualche parte Dato che tutti i camerini sono scomparsi Ci mettiamo in qualche stanza Controlla questa Vediamo se è bella Vai Tanto non c'è più nessuno Ci scelgiamo la stanza che vogliamo Ma c'è anche un letto? Questo è il letto Ok 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 Sì mi piace Mi piace Mi piace Ah vado a farmi un bagno Steph C'è la doccia Ciao Ottima idea Ottima idea Ma che ti fa bene? Io vado a cercare Che sei? Sei ridicola? Io vado a cercare una pozione di sotto Perché secondo me tu non stai benissimo Ok? Lo so che tu dici di star bene e tutto Ma io con le gambe nere le vedo Non hai più l'armatura Ma te l'ho detto Le vedi solo tu Steph Ti sono venute le allucinazioni oggi dalla stanchezza che hai Trovati una pozione? Se vuoi arrangiati Io mi rilasso qui Ciao Steph Va bene a dopo Trovata una pozione Fede arriva 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 Ah che bel bagno Steph Ti sei rilassata? Sì tantissimo Meno male meno male Ok ecco la pozione Vieni vieni che te la do Ma non mi serve Steph Che c'è? Perché stai scappando Steph? Che ti succede Steph? E parla Come faccio a capirlo dai tuoi occhi? Steph la smetti Dai che c'è freddo e ti prendi un malanno Entra dentro Mi f5 E guarda cosa sei diventata Oh mio dio Steph Che mi dicevi che le gambe erano Non mi vincione Cosa mi è successo Steph? Perché sono così? Te indovina Aiutami Steph Aiutami Allora Non penso che la tua pozione serva a qualcosa Però Steph Qui è tragica la situazione Che facciamo? Che facciamo? Beh io quantomeno proveri ad usarla no? Allontanati un po' Ok Vado? Basta Sì Ok Non sembra incoraggiante come pozione Ferre l'ho trovata lì Se hai fatta male è colpa dei camerieri Non è servita a niente Io non l'ho preparata Accidenti Ferre magari avrai effetto a lungo termine Non puoi saperlo Non credo Mi siedo qua e piango Allora Stai calma Come ti senti? Dimmi un pochettino Hai qualche sintomo strano? Ti senti? No allora Diciamo che in generale mi sento bene A parte che ho tantissima fame All'improvviso mi è venuta tantissima fame Aspetta dovrei avercela una torta Sì Ma non lo so se ho voglia di torta Ferre tu hai sempre voglia di torta No boh oggi non mi va Forse perché ho un po' di mal di pancia Non lo so Prova dimmi di che cosa hai voglia Non vedi non riesco neanche a mangiarla Steph Oh hai ragione Eh non ci riesco E di che cosa avresti voglia? Forse un cervello Ce l'hai un cervello? No Sono stupido Non ce l'ho Ce l'hai? No Ce l'hai Steph? No 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 Dai che ce l'hai Dammi un bel cervello Stai calma Stai calma Ma sono calma Ma chi ti dice che sono agitata? Dimmi te Non è normale volere un cervello Però Certo che è normale Ma che dici? Non parliamo di questo Non voglio parlare di normalità o meno Tu li mangi tutti i giorni a colazione? No non l'ho fatto E non me ne vuoi dare uno Però come ho detto Purtroppo io nel mio corpo Non contengo cervello Secondo me si è anche molto buono Steph Se vuoi però Vado a cercarne uno da qualche parte Da qualche parte dicevi dove? C'è un dottore Che ha sicuramente un cervello Perché i dottori sono intelligenti Quindi secondo me Andiamo da lui Ok Mi piace quest'idea Per dargli il suo cervello Mi piace Va bene Va bene Ok perfetto Perfetto Pere Ma quanto sei forte poi? Non so Non fa fermarmi Steph Che faccio? Lascia in pace il maiale Va bene Ok andiamo Forza Però lui sembrava avesse un bel cervello Steph No non credo che i maiali abbiano un bel cervello Se tu dici che non ce l'hai probabilmente allora loro ce l'hanno Beh può essere Quello è vero Oh mamma mia Questi zombie Non riesco a togliermi di dosso Nel vero senso della parola Dato che ne ho una Sempre attaccata Secondo me sono simpatici Guardali Steph Sono carini Siamo arrivati Vieni dentro Vieni dentro Vieni dentro Vieni dentro Chiudo A posto Salve Ok ci abbiamo fatta Allora lui Chi mi sta attaccando? Ma da dove è arrivato? Non lo so Dicevo Attiri guai Steph Vai Che lui è il dottore della villa Ok Non so se sia un bravo dottore Perché sta villa è tutta strana Quindi potrebbe essere strana anche lui Però teoricamente appunto Quanto meno il cervello ce l'ha Ma non mi sembra che abbia cervelli Steph Eh no questa ma sto prendendo io Perché così con gli zombie Ma quello non è il cervello Steph Ma è lui che ti dà il cervello Ma non me lo sta dando Guarda non gliene frega nulla Beh sai non credo che te lo voglia dare Di sua spontanea volontà Io diciamo Ma allora è inutile Steph Perché mi hai portato qui? Perché speravo ti sapesse curare Perché mi hai portato qui Steph Ma al momento sembra assai strambo Io ti lascio con lui Qua Ok Ma Cos'era quella Fer Niente Steph Cos'era? Niente Va bene dicevo Ti lascio con lui È quello che succederà Se non mi dai il cervello Tu scegli cosa fare Non voglio rimanere qua Sì 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 No Steph torna qui Saprà sicuramente come curarti Io non ho le competenze Quindi Torna qui Steph Torna qui Ciao Fer Steph Ciao Ti prego Non voglio rimanere chiusa qui Smettila Bene è l'unico modo Il dottore saprà cosa fare con te Io purtroppo Oh mamma mia Te lo meriti C'è una situazione pratica qui fuori Hai solo un torno di più qui dentro Arrangiati Ne avrei bisogno Mi si è rotta pure la spada Creeper Non esplodere volevo dire Ti spaccata la porta Posso uscire Oh no Stavo meglio lì dentro con Fer Ok Porca miseria dottore Ti ho detto che mi devi dare un cervello Hai capito? Hai capito che mi devi dare un cervello Perché non me lo dai? Sei un dottore terribile Non serve a niente Distruggo tutto il tuo studio Hai capito che distruggo tutto il tuo studio Perché sei una persona inutile Adesso ti faccio spropondare l'acqua Ti faccio cadere sott'acqua Bruto dottore inutile Che non sei altro Ciao Aspetta Io non dovevo cadere in acqua Ok? È che sono troppo grosso E non riesco a passare Dove sei? Che adesso ci passi anche tu Che mi hai portato Da sto dottore inutile Porca miseria È fortissima Scappa Scappa finché fuori Te l'ho detto Sta facendo un terremoto Con i suoi colpi Te l'ho detto che devo prendere il tuo cervello Tu non me l'hai voluto dare Sei un testardo incredibile Mi hai portato da un dottore inutile Che mi ha fatto solo arrabbiare di più Sai cosa faceva? Neanche apriva bocca Perché sono tutti inutili In quest'isola Steph Io te l'avevo detto Che questo non è il caso adatto da fare E guarda cosa mi hai fatto diventare Guarda Steph Che distruggo tutto all'isola adesso E vieni qua Mi devi affrontare No non ti hai affrontare Sei troppo forte Devi morire Perché non serve a nulla Ed è sempre colpa tua Se succedono tutte queste cose brutte Io scappo Io scappo Non scappare Non provare a scappare Ok che sono grosso e sono lento Però ti raggiungo prima o poi Non lo so guidare Ti raggiungo Ti raggiungo Proprio qua il creeper Mori creeper Ti raggiungo Steph Ok Sei andato nello yacht Ti ho visto Ti ho visto e sono anch'io nello yacht Ti sbagli Vediamo se questa funziona Dove sei Steph? Non mi puoi scappare Dove sei finito? Dove sei finito Steph? Non ascolto nulla Dove sei? Cos'è questa musica? Sì Ascolta Cos'è questa musica? Ascolta La senti? Sì che la sento È alta Forse hai alzato un po' troppo il volume No 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 Va bene va bene Però è bella Mi fa rilassare Steph Mi fa passare anche tutta la fame La voglia di cervelli che ho Steph Esatto Continua ad ascoltarla Fede Ma sei sicuro? Sì 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 Buona mela Oh grazie Ciao Bevo Tenga tenga Prima o poi le piaceranno di nuovo questi Grazie Oh che belli Anche questi biscotti Sì forse un po' di appetito Me lo stanno mettendo Ok È un buon segno secondo te Sì 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 È un buon segno Io mi allontano un attimo Ma sicuramente stai migliorando E ti stai riprendendo Ma vuoi fare di quei guru Che con la musica Ti fanno nella faccia del cervello Steph Anche devo parlare con questa voce così Molto melodica Capito? Perché tutto il mondo è bello Un po' mi sento meglio Steph Bene Che c'è? Sei guarita Davvero? Sì Vai a vedere? Oh mio Dio ce l'abbiamo fatta A parte quelle gambe Ma mi sa che quella ti rimarrà per sempre Ma come mi rimarranno per sempre Sì 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 Quella mi sa che Fere un effetto collaterale Però Cosa hai detto? Cosa mi deve rimanere per sempre Steph? Perché ha ancora i poteri? Perché il martello me l'ho sottenuta Quindi sei riuscita pure a ricavarne qualcosa da tutto questo Beh certo Questo è un martello potentissimo Io anche se ero molto sconvolta E non in me Sai com'è? Per le armi riesco sempre a tenere un briciolo di lucidità Che mi permette di tenermi questo martello fortissimo Steph Quindi adesso andiamo a trovare il modo di farmi tornare le gambe normali No Io faccio partire sto yacht E poi ne andiamo a casa Ok Io faccio partire lo yacht Ce ne torniamo a casa Non me ne frega nulla E poi le gambe te li sistemi con calma Quando vuoi Nel caso vai da un altro dottor Smettila Smettila Allora smettila Per ragazzi Sì 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 Lasciateci un like E' stata la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare il video di iscrivervi per non perdere i video in tre video Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao